Vi presento e faccio salire sul palco per primo John Greenwood che è il capo economista di Invesco, benvenuto, welcome Mr. Greenwood, you can join us on the floor, thank you, benvenuto John Greenwood e l'altro è un personaggio lo avete visto anche nel programma, è uno dei motivi per cui siete qui in tanti, ve lo introduco soltanto con una rapidissima clip mentre lo invito già a muoversi verso il nostro palco, Vittorio Feltri Non ne posso più, come non ne possono più gli italiani, vi rendete conto che è una palla è un polemista di classe, come sapete, vi ringraziamo e ti diamo la buonasera E' molto meglio fare la figura dei Pirla che dei Lassi Nel nostro paese piuttosto che farti arrivare in fondo rompono la pista Tant'è che in questa conferenza rappresenterà un po' il punto di vista del risparmiatore, del risparmiatore comune Io vorrei innanzitutto Feltri chiedere ma che risparmiatore è lei, che rapporto ha col denaro, come lo gestisce, come lo tratta? Devo dire che ho guadagnato abbastanza bene nella mia vita ma ho speso benissimo per cui sono a zero Ma tra le diverse scelte, quando nel corso della sua carriera le avranno proposto diverse scelte di investimento, tra i BTP, la casa, il mattone, le azioni, come le ha viste? All'italiana, cioè mattone Nell'illusione di non perdere denaro, invece ne ho perso un bel po' perché come tutti sanno gli immobili hanno perso di valore O quantomeno non hanno più il valore che avevano quando li ho acquistati Non è stato un affare meraviglioso Però sempre meglio che aver messo il denaro in una banca fallita Per il momento questo ce l'hanno risparmiato Però non si sa mai Tasse sulla casa continuano a peggiorare un po' questa situazione Alla grande, anzi è l'unico punto di riferimento preciso che hanno coloro i quali sono incaricati di far pagare le tasse anche a chi non le paga E pertanto si accaniscono proprio sui proprietari di casa perché sono bersagli facilmente raggiungibili Questo è il vero problema Facile, facile spremerli, questo lo sappiamo per esperienza John Greenwood, Vittorio Feltri ci ha raccontato quella che è un po' l'esperienza predominante del risparmiatore italiano tradizionale Che ha sempre visto la casa come l'asset principale sia in termini di rivalutazione che di sicurezza E che adesso inizia a porsi dei dubbi Lui stesso dice ci ho perso dei soldi, ho rischio di perderci dei soldi Quindi non sono più così soddisfatti ma continuano ad avere, vedremo anche se è il caso di Feltri Una certa avversione al rischio, cioè andare verso gli investimenti finanziari Come vede lei questo atteggiamento e come risponde a chi come Feltri finora si è comportato in questo modo? Well I think there are two things to be said The first is that under the current policies of the European Central Bank The eurozone is getting very close to deflationary conditions And as we've seen in Japan in the last two decades When deflation occurs Returns from real estate Chiedere aiuto alla regia perché siccome Vittorio Feltri non sente la traduzione Se qualcuno non interviene poi abbiamo un problema Quindi vediamo se dallo staff tecnico qualcuno ci dà una mano Oppure se una delle cuffie poi ve la sostituiamo che funziona con la traduzione italiana La portiamo qui sul palco Just a second E sì che le prove le avevamo fatte Let's try again Qui rischiamo solo di peggiorare la situazione Ok I think you can go on Intanto non sta ancora parlando Lasciamolo andare Let's go on Ok my general point is that Under conditions of deflation As we've seen in Japan over the last two decades Real estate prices do not necessarily fall What's happened in Europe in the last few years Is that with the decline in interest rates There's been some rise in property prices But that will not continue Because interest rates can't continue to fall forever So that's the first thing to be said The second thing to be said Is that under deflationary conditions Or very low inflation conditions Returns from both equities and bonds Can be very attractive And so I think that it's entirely appropriate For people who have had real estate investments To diversify somewhat Towards fixed income securities bonds And also towards equities Non so se Vittorio hai riuscito a sentire Sentito la traduzione? Sì ho sentito Sì ho sentito E penso che abbia perfettamente ragione il professore Sennò che anche gli italiani hanno cominciato adesso Perché avendo sperimentato che il mattone non è più così redditizio Anzi rischia di far perdere dei soldi Stanno cercando disperatamente di trovare dei modi per investire in modo redditizio Attenzione che però non è che le banche siano così sicure Perché negli ultimi 12-13 anni sono accaduti dei fatti Che hanno fatto perdere molta fiducia nel risparmiatore italiano Che è sempre stato uno dei popoli capaci di primeggiare nel campo del risparmio In realtà poi si sono dovuti ricredere Quando si entrava in banca un tempo pareva di entrare in una cattedrale C'era un grande rispetto per l'istituzione banca Dalla quale non ti aspettavi delle bidonate Gli impiegati erano come dei sacerdoti ai quali ti affidavi fiducioso Poi sono arrivati i bond argentini Poi sono arrivati quelli di Parmalat E c'è stato uno shock che ha fatto perdere quella Ha fatto nascere una sorta di diffidenza Io ho avuto un'esperienza anche ridicola Se posso la racconto in due minuti Io vivo a Milano ma ho una casa anche a Bergamo Per cui qualche volta ho bisogno di quattrini E tengo un conto anche a Bergamo E così avevo accumulato Adesso non ricordo esattamente la cifra Due o trecento milioni di lire Parlo di una dozzina di anni fa E ogni volta che mi recavo allo sportello Trovavo un impiegato che aveva perso l'aplom degli impiegati Di una volta e con tono aggressivo Cercava di rifilarmi dei cosiddetti prodotti Perché gli impiegati di banca Quando vendono un prodotto Incassano le provvigioni Quindi era molto insistente E anche il direttore della filiale Mi ha talmente sfinito Che un bel giorno Mi dicevano ma come Cosa se ne fa di tutti questi soldi Come fosse stato Agnelli E in contanti Lei li deve investire Deve investire Compri questo C'era la new economy a quel tempo Benissimo Sfinito Ho accettato di fare un investimento Di un centinaio di milioni Dopodiché dimentico completamente la cosa Trascorrono altri mesi Mi informo per sapere Che fine abbiano fatto i miei investimenti E ormai era ridotto a 30 milioni Quindi avevo perso il 70% Ecco queste cose Questi fenomeni Abbastanza diffusi Molto simili a quelli di Parmalat E dei bond argentini Hanno veramente indotto gli italiani A fidarsi meno degli istituti di credito tradizionali E sperano di trovare dei fondi di investimento Sui quali però manca una informazione dettagliata Un'informazione che sia in grado Di fornire gli strumenti all'uomo comune Affinché riesca a trovare quello che ritiene più adatto In questo senso noi dell'informazione Tecnici dell'informazione Si fa per dire Abbiamo delle grosse responsabilità Perché nelle pagine economiche dei giornali generalisti Usiamo un linguaggio aurico Perché vogliamo far vedere che siamo intenditori Temiamo il giudizio dei tecnici Che ci danno le informazioni Quindi il popolo non capisce niente Se tu per strada fermi un signore qualsiasi E gli chiedi cos'è un fondo di investimento Ti dà una risposta ma inesatta Ma anche il famoso spread Parlo di cose semplicissime Per mesi, per anni non si è fatto altro che parlare di spread Però se chiedi a qualcuno Che non sia un signore che è provveduto Sicuramente dà una risposta sbagliata E quindi noi dobbiamo informare meglio Il pubblico affinché faccia delle scelte informate E assolutamente in linea con i propri desideri Greenwood, la testimonianza di Feltri è esemplare Perché è l'atteggiamento tipico del nostro risparmiatore Da una parte l'avversione al rischio La paura del rischio che deriva anche da scottature pesanti Come quella della New Economy Come quella della crisi 2007-2008 Un decennio dal 2000 al 2010 In cui la borsa non ha guadagnato sostanzialmente niente Tra alti e bassi Quindi la paura del rischio da una parte E la scarsa educazione La scarsa informazione dall'altra Come loro che vivono sul mercato E con i clienti risparmiatori italiani tutti i giorni Dovrebbero riuscire a comunicare ai risparmiatori Che se non si cambia il mix di investimenti in questo momento Da una parte con i tassi ai minimi storici Dall'altra col fatto che lo Stato non garantirà più Le prestazioni che garantiva una volta In termini previdenziali, in termini sanitari Di long term care eccetera eccetera Non si riuscirà a far sopravvivere i nostri risparmi a noi stessi Ci troveremo in difficoltà nel lungo termine Well, there's no simple answer Investments generally do better When what we call the business cycle That is the level of activity of business Starts from a recession And moves all the way up to a peak in business activity During that period You get earnings growth You get increases in multiples The PE ratio Price to earnings ratio of stocks And generally speaking That's a sensible time to invest When the economy turns down into a recession You do get losses So first of all You have to follow and study the business cycle The second thing is That yes There are countries and products Which are not Where things are not properly regulated I can't speak to the Italian case I don't know But we've had our own cases in Britain Of mis-selling Of promotion by banks Of inappropriate products And they've obviously They've had similar promotions Of inappropriate products In America These things will never be eliminated completely The old Latin saying Caveat emptor Always applies You've got to be very careful So it means that you mustn't go into investments Blind And on the promotion of a salesman You need to understand what you're doing Get the appropriate education And take a long-term view of it That there is no kind of magic pill That you can take That's a shortcut Questo è sicuro Io vi ricordo anche Passato una slide La facciamo rivedere Che raccogliamo qui su questo computer Le vostre domande via SMS Tutti avete Telefonino E anche per prendere un appunto Il numero è 345 13 47 012 345 13 47 012 Per le vostre domande ad entrambi Vittorio Feltri Gli italiani hanno sempre amato molto Anche i titoli di Stato I BTP I BOT E così via Fino a quando nel 2011 Hanno scoperto Che anche quelli Si portavano dietro un rischio Abbiamo scoperto Che non ci sono investimenti privi Di rischio Nel tuo caso Come li hai visti E come pensi Che in questo momento La gente veda anche I titoli di Stato italiani Io non mi sono mai fidato Dello Stato italiano Per cui non ho mai comprato Neanche un BOT Anche perché ho sempre saputo Che lo Stato italiano Era bravissimo Nello sperperare Quindi ad accumulare Debito pubblico Tant'è che è diventato Il nostro problema principale Anche attualmente Lo è ancora purtroppo E quindi Gli italiani invece Continuavano a risparmiare E si diceva che Il convento è povero Anzi indebitato Ma i frati sono ricchi Era vero Adesso anche i frati Poverini cominciano Ad avere qualche difficoltà Ma investire in BOT Senza un impegno preciso Da parte della politica Ad abbassare il debito pubblico Come degli interventi Però massicci Non alla Cottarelli Tanto per essere chiari E allora sarà difficile Convincere gli italiani Per imparare i BOT Preferirei investire in borsa Investire in fondi Che mi diano Un minimo di garanzia Il terrore degli italiani È che un bel giorno Vadano in banca E laddove avevano 50, 60, 300 mila euro E non trovano niente Forse non trovano neanche la banca Questo è il vero terrore Credo Ma tu pensi O hai pensato davvero Che fossimo come la Grecia Quando dici Non mi fido dello Stato Siamo un paese Che ha corso Corre quel rischio No, come la Grecia no Anche perché noi Abbiamo un'industria Manufatturiera Che non siamo ancora Riusciti a distruggere Del tutto Forse ci riusciremo Con un po' di impegno Ancora Abbiamo una certa solidità Abbiamo degli imprenditori Che non riescono A fare sistema Come dice Montezemolo Con un'espressione Che non mi piace Ma per comodità La ripeto Eppure se tu Parli con un imprenditore Italiano E gli chiedi Ma come andranno a finire Le cose in Italia Ti risponderà di sicuro Malissimo Poi Gli fai un'altra domanda Ma tu personalmente Ah io me la cavo Quindi noi dal punto di vista Individuale Abbiamo anche la volontà E abbiamo la certezza Che non moriremo Chissà perché l'abbiamo Però l'abbiamo C'è un fondo di ottimismo Che funziona come propellente Ma Non siamo la Grecia Non abbiamo solo le capre E le isolette Perché le isole Quando le hai vendute Una volta è finita Invece le nostre fabbriche Comprese quelle del Veneto Che piangono tanto Ma che sono ancora Molto efficienti Danno a tutti La speranza Di una ripresa Infatti il titolo Si sta per ripartire Più o meno Questo è il concetto Sì Punto interrogativo Probabilmente sì Perché i soldi Cominciano a girare Anche negli ambienti finanziari Si dice che Un po' di quattrini Si sono rimessi in moto Questo aggiunge Aggiunge carburante E quindi non staremo fermi Adesso parliamo anche di questo John Greenwood Al di là della sfiducia Di Feltri Verso i titoli italiani In realtà I bond I governativi I titoli di Stato italiani Sono stati uno dei migliori investimenti Nel corso dell'ultimo anno Perché si sono ripresi Di valore In maniera significativa Con Il restringimento progressivo Dello spread Come li vedete voi Adesso C'è ancora valore Nell'investimento Nei BTP Nei titoli italiani? Probabilmente L'evoluzione Il valore Restare in fondi Per il tempo Ma Credo There Would be Still value In corporate Bonds And I think That Italian people Should think Non only Just about italy but also about the rest of Europe you can acquire government bonds in other parts of Europe you can buy corporate bonds in other parts of Europe and the fund management industry offers a number of corporate bond funds focusing on the euro zone which would give you much more diversification than if you only invested in Italian companies bonds Ieri il capo della Bundesbank la banca centrale tedesca si è espresso in maniera nuova imposto una svolta dicendo noi pensiamo che la BCE possa acquistare titoli per far ripartire un po' di inflazione in Europa per aiutare l'economia questo cambia dal suo punto di vista la prospettiva per chi investe da qui in avanti nel 2014 well it might but I think we'd better wait until we see some action finally you know finally the Bundesbank is talking about expanding the balance sheet of the European Central Bank this is far too little and far too late we need a concrete action plan and the ECB needs to promote lending throughout Europe and the way to do that would be to follow the Federal Reserve the Bank of England and the Bank of Japan and to acquire securities I find it absolutely extraordinary that there has been this philosophical opposition to bond purchases coming principally from the Bundesbank so yesterday's state or the release of the announcement yesterday the the interview was actually last week is not before time Europe needs a much more expansionary policy in order to promote the business cycle questo è sicuramente cruciale anche per la prossima fase la scorsa settimana non solo ha parlato Weidman ma Matteo Renzi è andato in Germania incontrato la Merkel è tornato in Parlamento si è espresso così sentiamo un rapidissimo passaggio in questi anni l'Italia i compiti li ha fatti i governi che mi hanno preceduto che ci hanno preceduto non sono stati a girarsi pollici e noi abbiamo la certezza che dalla nostra parte non ci sono gli slogan ci sono i numeri questo è un paese che da anni ha un avanzo primario questo è un paese che rispetta i vincoli europei questo è un paese che ha il secondo export dei 28 paesi europei questo è un paese che ha una manifattura che continua a avere dei risultati straordinari questo è un paese di cui siamo orgogliosi allora essere orgogliosi sicuramente una buona cosa abbiamo un nuovo presidente del consiglio sembra molto veloce è sempre in movimento però anche gli investitori esteri c'è già subito una domanda su questo chiedono che queste riforme poi passino dalla fase dell'annuncio della promessa alla fase della realizzazione proprio ieri in un incontro riportato dai giornali di oggi gli investitori internazionali riuniti a Londra hanno detto in maggioranza non siamo convinti che Renzi ce la farà ma al tempo stesso l'italia in questo momento ci piace che cosa pensa di questa posizione di Renzi vedremo anche la merkel come risposto quello di di Renzi a palazzo chigi è un libro che non è ancora stato scritto c'è soltanto la prefazione ossia una serie di buone intenzioni espresse brillantemente dal giovanotto fiorentino una diversità di linguaggio che non può che sedurre un uditorio come il nostro abituato alle lagne della politica tradizionale una liturgia respingente mentre questo signore effettivamente è in grado di risvegliare anche quell'orgoglio inoltre ha detto alcune cose giuste che avevo in parte detto anch'io cioè un'industria manufatturiera ancora piuttosto importante abbiamo un export vivacissimo abbiamo un avanzo primario ma da parecchi anni peccato che è vero che l'italia ha fatto i compiti a casa ma gli ha sbagliati tutti gli ha tutti gli ha sbagliati tanto è vero tanto è vero che abbiamo ancora il debito pubblico altissimo altissimo abbiamo purtroppo una disoccupazione che è l'unica cosa che cresce veramente forte in italia in sostanza tutti i parametri tutti i dati sono peggiorati grazie anche a quel brillantissimo governo monti a quello ancora più brillante di diletta adesso è arrivato monti è arrivato chiedo scusa renzi non possiamo che essere felici di tanti di tanti buoni propositi ma sarà in grado di realizzarli allora cominciamo dalla legge elettorale che è ancora in alto mare è passata sì ma solo alla camera adesso c'è il senato poi c'è il superamento del senato che dovrebbe essere fatto dal senato stesso cioè il senato chiamato al suicidio collettivo che non sarà facile da ottenersi poi c'è il titolo quinto della costituzione che va riformato perché conferisce alle autonomie locali la facoltà solo di spendere e non di organizzare quindi certo sono cose che vanno fatto poi ci siamo sbagliati tutti non erano le province da chiudere che stanno sul territorio e fanno qualcosa di concreto erano le regioni in un paese piccolo come il nostro ci sono venti regioni anziché anziché tre o quattro è una follia perché ogni regione oltre a essere un'associazione per delinquere perché lo sappiamo basta leggere i giornali e anche sono anche centri di spesa anzi di sperpero scialacquano che è una meraviglia abbiamo visto persino nella cosiddetta regione virtuosa della lombardia che cosa è accaduto allora questi sono i temi veri che ci farebbero risparmiare dei quattrini non fare dei tagli a capocchia come è stato fatto fino adesso inoltre ultima cosa poi mi taccio c'è adesso la bellissima idea di un ministro del quale non ricordo il nome di prepensionare molti statali che quindi ci costeranno lo stesso perché la pensione costa come lo stipendio più o meno gli importi sono quelli per assumere per dare il posto ai giovani ma secondo voi noi abbiamo bisogno di giovani nella pubblica amministrazione che va snellita quindi queste belle cose dette da 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 renzi poi non hanno un seguito coerente nel resto del governo intanto però la fiducia della merkel quantomeno apparentemente se l'è un po guadagnata vediamo come la merkel ha risposto nel corso di quell'incontro a libro diciamo del programma presentato da renzi sono veramente molto impressionato c'è un vero e proprio cambiamento strutturale in italia abbiamo visto tutte le varie vari aspetti del programma del presidente che appunto relazionato e devo dire che vi auguro veramente ogni bene perché credo che questo sia un messaggio che noi tutti vediamo con grande positività greenwood è anche lei impressionato come la merkel oppure pensa più come feltri che renzi stia promettendo troppo rispetto a quello che sarà in grado di mantenere lettera del Presidente le rosa che si segretta da dire il voto certo? ma quello che si diceva è caduta un nome per il voto di rispondere rispondere Renzio il voto dell' potere che si l'avete già propostati il debateso di rispondere di rinzi l'agenda per rinzi è gigante rinzi non è unaq'erciata rinzi non è un assetto se vuoi un esempio ha Just read the report of the IMF written last September-October 2013, which outlined a huge number of areas of the economy that needed attention. The labor market in particular, the judicial system as well. Let me just give you a couple of examples from the judicial system. In Italy, I'm sure you all know, it takes approximately 1,200 days to resolve a case. That's just enforcing a contract. That's more than twice the OECD average. Another example, civil cases typically take eight years in Italy versus just over two years in the rest of the OECD. Now, those things might seem not to have very much connection with economics and the business economy, but in fact, they're very important. Foreign direct investment in Italy is about one-third of the European average. In other words, this kind of impediment to getting legal solutions to problems is a bar to foreign investment coming into Italy. Similarly, the credit markets in Italy have not developed nearly as much as they would have done if these judicial problems were solved. For example, in order to create a market in distressed debt, things have to be resolved quite quickly. At the moment, that cannot happen. So, these kind of really basic things need to be addressed in addition to cutting taxes for poorer people or cutting, as I understand it, corporate regional labor taxes for corporations. I mean, those are just kind of icing on the cake. We need the real basic reforms to be tackled first. Molte domande che stanno arrivando al 345 13 47 012 riguardano le elezioni europee e la possibilità che emerga una forte presenza di partiti, movimenti anti-euro o anti-europeisti nel loro complesso. Greenwood, innanzitutto, le chiedono quali influenza potrebbe avere sui mercati un risultato di questo tipo a livello di elezioni europee. Unless there is a major overturn of the established parties, I think that the impact on the stock markets would be relatively limited, and I think the impact on the bond markets and on the money markets will be quite limited too. It's quite a common phenomenon that in these sort of what we call in English off-year elections that you get protest votes. I don't suppose that this is really pointing the direction for core Europe in the years ahead, but so even if we get adverse results, I don't think that the effect on the stock and bond markets would be too severe. The dominant driver of the equity market over the next few years is going to be what happens to business and economic activity, and that in turn will be determined primarily by monetary policy, not by elections. Feltri, che ha le antenne così sensibili anche sulla pancia del Paese, cosa pensa verrà fuori da queste elezioni europee da questo punto di vista? Credo che il Parlamento al 40% sarà rappresentato da anti-europeisti, o comunque euroscetici, come li vogliamo chiamare, perché il movimento è in crescita, lo sappiamo tutti, non soltanto in Francia, in Italia non si è organizzato, ma c'è comunque un sentimento crescente di ostilità nei confronti dell'istituzione Europa, che è una finzione, è un apparato burocratico, non c'è unità politica, non c'è unità economica, non c'è un denominatore comune nella lingua, nella storia, nelle abitudini, quindi c'è solo la moneta unica, che non è rappresentativa di niente, non rappresenta la realtà, per cui se una moneta non rappresenta la realtà, o si cambia la moneta o si cambia la realtà, la realtà non la sanno cambiare, quindi crescerà ulteriormente il sentimento di ostilità, di avversione nei confronti dell'Europa e poi si vedrà. Naturalmente moltissimi sono contrari all'abolizione dell'euro, dicono addirittura che l'euro è irreversibile, a me hanno insegnato alle elementari che di irreversibile c'è soltanto la morte, però non c'è nessuno che spieghi per quale motivo l'euro debba considerarsi indispensabile, indistruttibile, irrinunciabile. Ecco perché il sentimento anti-europeo viene continuamente alimentato, perché gli euro entusiasti non danno spiegazioni, non sono in grado di convincere e poi c'è la realtà che purtroppo la conosciamo, ciò che costava mille lire costa un euro, per cui c'è stata una perdita secca nelle tasche degli italiani, parlo degli italiani ma penso che valga anche per altri paesi, a meno da quello che si legge. E in questo campo essere ottimisti è impossibile. L'unità politica era anche all'inizio una sorta di veleità, un'utopia, un'utopia perché basta conoscere un po' la storia dell'Europa, l'Europa non è come gli Stati Uniti, che comunque sull'unità del paese ci hanno lasciato 750.000 morti, noi no per fortuna. Greenwood, Feltri ci dice, attenzione l'euro non è irreversibile, in realtà le autorità europee hanno fatto di tutto per allontanare il cosiddetto rischio di conversione, fino a quando Draghi ha fatto il famoso discorso di luglio del 2012, da allora in avanti questa ipotesi sembra ormai fuori, uscita dai giochi, però nell'opinione pubblica torna in gioco in maniera molto pesante. Lei si aspetta che questo tema possa tornare a essere uno dei temi, come richiamate voi, un po' tail risk o rischio sistemico nel corso del 2014? I think it's possible that we could have a systemic risk in 2014, but I think that would come primarily from problems in the banking system. There's a lot of pressure on the banks to meet the asset quality review, and some of them will have to raise capital. So with the high level of bad debts in European banks, it's quite possible that people could become nervous in the way that they did earlier on in the crisis in 2010-2011. But that's a long way from saying that the euro itself will be reversed. The problem is that we have an elite group in Brussels, in Frankfurt, and around the capitals of Europe who are determined to keep this club of the euro together. And my own view has been that it was a mistake to start it, and it's going to be extremely difficult for anybody to conduct a monetary policy which is suitable for all the countries. But this is supported by, as I say, a huge amount of propaganda emanating from Frankfurt and from other European capitals. So it will take a revolution at the grassroots to overthrow it. And in effect, su questo, anche la vostra febbre è altissima, che ci sono otto domande in due minuti. Uno dice due miliardi di debito in euro. Se si torna alla lira, che succede? La doppia. Basta andare fuori dall'Europa per capire quanto di storia e cultura gli europei hanno in comune. Altri chiedono il problema. È l'euro o l'Europa? È meglio l'euro forte su tutte le valute? Sarà un problema per l'Europa e le esportazioni? E via dicendo. C'è tantissima attenzione su questo tema, che però non andiamo fino in fondo ad esplorare, perché vogliamo anche parlarvi della ripresa. In questo momento era uno degli elementi del nostro titolo. Si riparte, sì o no? Dipende non solo dall'Italia, ma da quello che ci gira intorno. Mario Draghi, il governatore della BCE, la pensa così nella sua ultima conferenza stampa, ha detto questo. Following two quarters of positive real GDP growth, developments in recent data and surveys overall suggest that the moderate recovery continued in the last quarter of 2013. Looking ahead, our previous assessment of economic growth Greenwood, cosa si aspetta lei dalla ripresa? in Europa e pensa che, avendo ascoltato anche la Bundesbank, la BCE possa davvero fare qualcosa di speciale adesso per accelerare questa ripresa. What we just heard from Mr Draghi is more of what I described of that European, that ECB propaganda. I think that a recovery, a very modest recovery, will occur despite what the ECB has done. If the ECB goes as far as to follow the statements of Jens Weitmann last week, namely that they are willing to expand their balance sheet to conduct QE, or quantitative easing, and purchase bonds to inject money, then the prospects for a European recovery would be much stronger. At the moment, the fact is that the European Central Bank's balance sheet has actually been contracting, which is quite the opposite of what is required for a recovery. So the things that Mr Draghi mentioned, things like fiscal consolidation and getting prices under control, these kinds of things are symptoms of the depression and the recession. I think that Europe needs a more stimulatory policy going forward, but I think it's a long way before Mr Weitmann's proposals actually get translated into action. Ci sono diverse domande per Vittorio Feltri, una riguarda il piano dei tagli di Cottarelli, perché non le piace? Chiedono dalla platea. Perché sono tagli, intanto ininfluenti, con 4 miliardi non va da nessuna parte, visto che ne servono 8 o 10 solamente per il velleitario assegno di 80 euro in ogni busta paga per chi guadagna meno di 25 mila euro. Mi ricordo esattamente. E questi tagli non incidono in maniera sostanziale nella spesa pubblica, perché bisogna fare dei tagli strutturali. Prima accennavo le regioni, laddove non si interviene drasticamente, e come non intervenire? Quindi, con questi 4 miliardi, Cottarelli ha fatto dei tagli ideologici più che tecnici. Tanto è vero che Renzi si è reso conto e l'ho dichiarato ai giornali nei giorni scorsi, interverrò io perché alla fine sono io che decido. Questo dimostra che non c'è concordanza neanche nell'ambito del governo che si è arricchito di alcuni tecnici come Cottarelli. Un'altra domanda per lei riguarda la tassazione sulle rendite finanziarie. Ritiene che sia uno strumento che fa concorrenza sleale nel rapporto tra titoli di Stato che restano tassati al 12,5% e gli altri asset finanziari? È una follia qui non bisogna far intervenire degli economisti ma degli infermieri che riportino via tutti. E ancora sulle elezioni ritiene che la probabilità che il movimento di Grillo possa vincere le prossime elezioni sia pari a quella che lei ha di diventare direttore di Repubblica? No, io non credo che vincerà le elezioni Grillo però se cavalcherà come ha fatto con molta cautela e abilità la signora Le Pen non dico che Grillo possa vincere ma avvicinarsi alla vetta e quindi fare del male sia al Partito Democratico che a Forza Italia che peraltro è bravissima a farsi male da sola. Berlusconi che lei ha conosciuto bene come lo vede adesso? Lo vedo male lo vedo male perché? intanto non lo vedo lo vedo solo in televisione oppure in fotografia ed è sempre insieme con due signore una si chiama Pascale e l'altra si chiama Rossi io non ho niente contro due però lo preferivo con le oggettine se non altro dava un senso di allegria adesso mi sembra ostaggio sento avendo capito il suo approccio all'investimento come ce l'ha raccontato all'inizio non le chiedo neanche che cosa pensa dei paesi emergenti se lei andrebbe a investire o ha investito nei paesi più lontani i cosiddetti BRICS i Next Eleven il Nuova Frontiera come li vede? io per molti anni ho girato parecchio per il mondo perché facevo l'inviato al Corriere poi ho cominciato a fare il direttore che è per definizione un'attività stanziale non mi sono più mosso per cui non conosco più il mondo sono un'analfabeta di ritorno non saprei neanche dove mettere le mani però telefonerei a lei per avere dei buoni consigli Greenwood tante domande per lei invece su l'investimento nei mercati emergenti come li vede da qui in avanti? the emerging markets have just come through a rather difficult period they recovered quickly in the wake of the global financial crisis but that quick recovery was fueled by inflows of hot money from overseas combined with very rapid money and credit growth at home that money and credit growth has created inflation and so they are now having to solve that inflation problem so most of the emerging countries are now going through a corrective phase slowing down the central banks are raising interest rates and I think that that process will probably take another year or so to complete it started really probably in May of last year but it's still still ongoing that kind of problem which had been building up for about three years cannot be solved overnight so anybody who invests in emerging markets should be very cautious about the short term I have I'm very positive about the emerging markets over the sort of longer term three, five, seven years but over the next year or so they are going to be sorting out their problems equity and debt at the same time perché molte domande riguardano il debito emergente rispetto all'azionario dei paesi emergenti well the emerging debt which is denominated in local currencies is particularly treacherous because many of these countries are seeing their currencies being devalued so that's an area to be careful about if it's dollar denominated it will have a high yield but I doubt if that yield will come down very much over the next year or two so I think that that's an area which will probably be okay but it doesn't promise a very high return for the long term investor I think that equity investment in emerging markets is probably a better place to be and if you want to hold high yielding bonds you're better off either in American or European high yield corporate bonds lei ci ha parlato prima dei titoli governativi italiani alcune domande riguardano nei mercati sviluppati nelle economie sviluppate quali altri tipi di obbligazioni governative voi vedete favorevolmente in questo momento su quali bond di quali paesi consigliate di andare in terms of developed economies what kind of bonds might you suggest you mentioned italian government bonds but leaving aside that for the most part government it's too late to be investing in government bonds the yields on government bonds have fallen a long way and as America raises interest rates the yields on government bonds will increase and that will mean that returns will be very low or even negative so investors in my opinion should only look at corporate bonds or higher yielding bonds there the yields are higher than on government bonds and although they may not come down over the next year or two the returns that you will make will be more attractive than what you can make in a government bond so I think as I said before corporate bonds in Europe or high yield corporate bonds in Europe or corporate and high yield bonds in the United States so you can see my emphasis developed countries rather than emerging ancora due flash per Greenwood e poi torniamo rapidamente chiudiamo anche con Feltri il primo riguarda gli Stati Uniti ci sono can you hear me yes ci sono domande che riguardano la politica della Fed dopo l'ultima presentazione da parte di Janet Yellen pensate che cambieranno sia i tempi del cosiddetto tapering che il momento in cui la banca centrale americana inizierà ad alzare i tassi come vi aspettate il tasso sul decennale alla fine dell'anno dell'anno towards the end of this year, and then we had a clear statement from Janet Yellen, although it may have been unintended, that there would probably be something like a six-month pause before they started to raise interest rates. Now all of that assumes that the economy recovers in a normal way. If there is any setback to that, then the interest rate increases would be later. So I think what we can say is that we should, for the moment, anticipate that US rate increases would start in the second half of 2015, but if anything, if there is any risk in that, it is that actually they would start later, something like 2016. L'ultima domanda ancora sui mercati per Greenwood riguarda i mercati azionari. Ci chiedono dalla platea, se questo è ancora un momento positivo per entrare nei mercati azionari, visto i livelli degli indici, e quali aree geografiche voi raccomandate di sovrappesare dal punto di vista azionario? Well, I don't want to be too specific about investment advice, that's not really my role, and I don't know the regulatory position here. I think that investors should in general hold equity markets in the developed world and only small exposure in the emerging world. As I said earlier, equity markets tend to move in line with the business cycle, and we are only at the very beginning of what I believe will be a long expansion of business activity. In the 1990s, business activity in America continued to expand from 1991, at the end of the 1991 recession, all the way through until 1999-2000, so pretty much the whole decade. I think that we will be seeing a similar kind of extended expansion in the United States. And even if the right policies are not adopted here in Europe, nevertheless Europe will probably follow that course of development. And therefore, investors should be able to look forward to several more years of improvements in equity index levels. And therefore, a diversified portfolio of well-chosen equities, either held in individual portfolios or through funds offered by fund management companies, should make a good return over the next three to five to seven years. Vittorio Fedri, here in the Salone del Risparmio, you represent a little bit of the spectrum of investment, including those that you call alternative. Do you remember that you are an expert in cavalli and you ask if you have ever invested in cavalli and how it went? Diciamo che 15 years ago, with a couple of cavallucs, I had also had good performance performance. Now there is no longer there, so there is no longer there, so there is no longer there. We know that the activity of San Siro is reduced to minimum terms, the Trotto is dead. Also, in other countries, 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 under the profile of IPIC, are at a fallement, a disaster. Rimane l'equitazione, dove i prezzi sono talmente elevati, per cui sconsigloro l'acquisto di un gatto. Costa di meno, più simpatico e meno impegnativo. Un'altra domanda che la riguarda rispetto a quello che ti ha raccontato all'inizio è se lei non abbia mai pensato di rivolgersi a un consulente finanziario, un promotore finanziario non di natura bancaria, non direttamente allo sportello bancario ma a un professionista. No, non l'ho mai fatto ma lo farò. Soddisfatti quelli che in platea avevano segnalato questo, andiamo alla conclusione John Greenwood che è l'interrogativo da cui siamo partiti, siamo pronti a ripartire, stiamo ripartendo davvero oppure ci sono ancora dei rischi che questo movimento che intravediamo si areni nel corso del 2014? I don't think there are any near term sort of major, major risks. The important point is that having gone through the big recession and the financial crisis of 2008 and 2009, the debt position, particularly the private debt position in America, in Britain, in parts of Europe is being repaired. Let me emphasise, it is private sector balance sheets that matter. Governments can run deficits and that of course wastes taxpayers' money, but it is much more important that households and financial institutions get back into good shape. And that is exactly what is happening in America. That is why the American market has done so much better than other markets and that is why the American economy has done better than other markets or other economies. We would do well in Europe to study their example and follow their case. Vittorio Feltri? Non si può non essere d'accordo, però il segnale di ripresa è inequivocabile, lo dicono le cifre, ma non penso che questa piccola crescita del PIL sia sufficiente per un decollo. Come è andata questa incursione nel mondo del risparmio degli investitori? Perché la prima volta che ci siamo sentiti hai detto ma io lì in mezzo al risparmio degli investitori... Sì, per me era un luogo innaturale, invece mi sono trovato benissimo, mi manca solo un caffè. E allora adesso è anche il momento del caffè. Grazie ancora Vittorio Feltri, John Greenwood, vi lascio alla sigla che doveva andare all'inizio, distrattamente ho trascurato e ancora buon lavoro al Salone del Risparmio. Grazie.